Ci siamo, siamo arrivati al santuario d'Europa, abbiamo raggiunto i 1200 metri e anche gli zero gradi come raccontano i guanti che abbiamo questa mattina. Siamo saliti da Biella per circa 20 minuti, siamo arrivati in questa magnificenza di arte, di fede e di storia. A partire dalle 9.30 ci collegheremo per scoprire la storia del grande santuario e soprattutto andare a ripercorrere anche i prodigi della sacra effigie qui d'Europa. Quindi ci troviamo qui alle 9.30, quindi rimanete con noi, a più tardi e buona giornata, a dopo.